Quanto risparmiamo se installiamo dei pannelli fotovoltaici per la produzione d'energia nella nostra abitazione e quanto se utilizziamo lampadine a risparmio energetico? E soprattutto quanto saranno amplificati i risultati di queste buone pratiche se ad adottarle ci pensa un'intera amministrazione pubblica? A questa domanda vuole rispondere il nuovo portale per la simulazione dei risparmi energetici ideato da Anci Piemonte e CSI Piemonte. Il progetto è stato presentato il 25 giugno a sindaci, amministratori e uffici tecnici dei comuni che avranno così a disposizione un nuovo strumento per la pianificazione e la gestione efficiente dell'energia. Risultati alla mano potranno scegliere le azioni da attuare in sinergia con le aziende attive nei diversi settori. Funziona se vogliamo in maniera molto semplice perché sono state tolte tutte quelle ammennicoli e cose che creavano soltanto confusione nel capire come si può risparmiare e come bisogna investire per ottenere il risultato del risparmio. Sarà uno strumento attraverso cui i comuni e le amministrazioni metteranno a disposizione dei loro cittadini le informazioni su che cosa fanno per procedere lungo la strada dell'efficientamento energetico. Quello che riteniamo e la regione si sta muovendo in questa direzione, i comuni anche, è che oggi è fondamentale coinvolgere le persone, le persone devono sapere, capire, conoscere e a quel punto diventano dei motori, ognuno di loro, ognuno di noi diventa un motore verso l'efficientamento energetico che oggi è l'obiettivo principale. Noi abbiamo individuato almeno 12 figure professionali che possono essere prese in considerazione in funzione di questo progetto. È chiaro che significherebbero nuovi posti di lavoro ma significano anche una prospettiva produttiva diversa per la regione Piemonte. È un investimento sul bilancio di un ente, un investimento sul bilancio conseguente di una famiglia e un investimento ovviamente non meno importante sull'ambiente. Oggi, grazie al contributo del CSI, abbiamo potuto affermare come l'ICT e quindi la parte informatica può rappresentare l'occasione per accrescere il livello di consapevolezza non solo delle istituzioni pubbliche ma anche di tutta la comunità e di tutta la cittadinanza.